Musica 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 Grazie a tutti. E' quello che ne vogliono sapere di più e perché il benessere, lo stare bene parte soprattutto dalla famiglia. 25 giugno, il primo Gay Pride a Caserta. Il primo Gay Pride a Caserta. La società già prevede le nostre famiglie, già siamo inclusi, siamo in tutti i tessuti sociali. Siamo qui in piazza per continuare a lottare affinché le nostre famiglie vengano riconosciute per legge nella loro interezza. Un percorso che abbiamo fatto insieme da tanti anni, le battaglie, le rimedicazioni. Quindi stare qua non c'è niente di strano per me. E' il mio luogo dove sto, il luogo giusto, il momento giusto e la persona giusta. 20 anni di Pride a Napoli, oggi dopo quello del 1996 incastiamo il risultato degli unioni civili ma non possiamo illetreggiare. Per questo la nostra rivendicazione rimane sempre in matrimonio qualitario e da qui ripartiamo da Napoli, il primo Pride dell'era moderna. Grazie. 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 Grazie.